Allora, mi sono detto come si può iniziare a parlare dei fumetti seriali perché hanno raggiunto una serialità ormai, alcuni più alcuni meno, Bonelli in fumetteria. Un video per il numero 4 di nero? Anche no, è il numero 4, comunque chi non l'ha seguita la serialità non interessa, chi l'ha seguita, ma poi un video per ognuno di questi d'estate non va bene. Quindi che facciamo? Ne prendiamo un po' interessanti e ne parliamo per capire se va la pena sia recuperare l'intera serie per alcuni, sia recuperare il numero successivo per altri. Perché? Perché sappiamo che se aspetti un po' questi qua, questi volumi qui, li trovi all'usato, alla metà del costo e magari si può anche aspettare. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono Luca DJ e questo è Storie dell'altra vita, qui parliamo di fumetti, di cose nerd. Se venite più vicino, non mi faccio sempre amare dalla casa editrice e dagli autori dicendo queste cose, però effettivamente è vero. I prodotti da libreria, da fumetteria, di Bonelli, se non esauriscono, come per esempio Senz'Anima, che spesso esauriscono, poi te li ritrovi sul mercato dell'usato anche alla metà. Ho visto delle offerte sul libraccio che c'erano dei Senz'Anima alla metà del costo, a 7 euro, 7 euro, 8 euro, 9 euro. E lì veramente, veramente è un acquisto obbligato quasi, se ti interessa quel tipo di lettura a quel costo, è veramente regalato. Poi se il fumetto sta anche bene fisicamente, è veramente regalato. In questo caso, questo tipo di video che racchiudono un po' più di prodotti in un tempo un po' più breve, siamo in estate, secondo me sono importanti, secondo me sono qualche cosa di interessante. Io volevo però, prima di questo, perché è un po' di tempo che non lo faccio nei video e la cosa è sbagliata, volevo ringraziare, ringraziare chi al momento del video è iscritto al canale. Quindi facciamo così. Me li rivedo tutti quanti, così ne parlo perché hanno la mia piena stima. Persone che ci hanno messo oltre che la faccia anche il portafoglio e sono contento di questo. Sono contento che abbiano deciso di fare questo tipo di gesto anche nei miei confronti. E quindi andiamoli a ringraziare come si deve. Se voi volete iscrivervi, lo potete fare tranquillamente, abbonarvi al canale. È rimasto soltanto un abbonamento, non ci devo campare io con questa cosa, quindi è rimasto solo un abbonamento per offrirmi un caffè e farmi capire un po' di più, più che con un like o con un condizione o con un commento, che quello che sto facendo qua davanti alla telecamera con voi non è buttato lì, ma è assolutamente apprezzato. E sapete, offrire un caffè a qualcuno è una forma di stima e di rispetto importante, soprattutto raggiunto a una certa età. E io ringrazio per quel caffè Zeta Thomas 514 Hit, non per il suo nick, ma per quel caffè, Antonio Guacci, Andrea P, Flip 80 Full e Manuel Bracchi. Grazie per esservi abbonati, per comunque quel caffè che mi avete offerto. Grazie mille, veramente. Speriamo che vi sia gradito questo tipo di riscontro, anche perché ultimamente non li vedo nemmeno nei commenti, quindi proprio è stato un gesto spontaneo, nemmeno a dire vogliono l'iconcina del lettore timido. Cioè, proprio è stata una cosa lì, spontanea, buttata lì. E grazie. Allora, iniziamo questa carrellata con... non con questo, non con questo, iniziamo con questo. Senza anima, no, iniziamo con questo. Cthulhu, Death May Die. Il secondo volume di questa narrazione di Cthulhu, c'è un'altra narrazione che è Zombicide, che si rifà delle tematiche di Cthulhu, ma non così aperte, diciamo, è ispirato. Questo qua invece è proprio Cthulhu, Cthulhu. Che cos'è Cthulhu? Beh, Cthulhu è ispirato... Cioè, no, è ispirato. Cthulhu è un... è un personaggio, un mondo di Lovecraft. Io me sbaglio sempre, scusate, ma a volte non riesci proprio a pronunciare bene determinate cose e ti rimangono. di Lovecraft, il mondo dei... di demoni primigeni che hanno... che sono sempre stati qui o sono arrivati da fuori, ma comunque demoni estremamente potenti, estremamente corrotti, estremamente inquietanti, in cui i racconti di Lovecraft sono pieni, zeppi. E se proprio proprio non volete leggere libri, come non ho fatto io, prendetevi quantomeno i fumetti. Sta proprio lì uno, di Lovecraft, di... sono di J-pop, e sono... vabbè, non ve li faccio vedere, ve li faccio vedere in un altro video. Sono quelli di Gutanabe, sono i riadattamenti dei libri di Lovecraft di Gutanabe, che sono meravigliosi. Scegliete, se potete, le versioni più grande cartonate costano una fucilata, ma sono quanto di più bello possiate leggere e vedere, e vedere attivamente su Lovecraft. In questo caso, il numero due si va a ricollegare in modo neanche tanto stretto al numero uno che è andato in stampa, credo un annetto e mezzo fa, in cui si parlava di un orfanotrofrio che veniva infestato da questi tentacoloni, perché i demoni di Cthulhu, appunto, hanno questi tentacoloni, sono piovre gigantesche, eccetera, eccetera. In questo caso, ci sarà una seconda parte in cui vedremo un paio di personaggi che già conosciamo, ma sarà una seconda parte fruibile anche a sé stante. Certo, il numero sulla copertina, sulla costina, dà parecchio fastidio, però vi dico sinceramente, leggere il due senza aver letto l'uno non toglie nulla nell'esperienza, tranne un paio di riferimenti proprio buttati lì che vi faranno dire vabbè, casomai l'uno me lo leggo, lo prendo e me lo leggo, ma non toglie nulla, quindi è tranquillamente leggibile a sé questo numero due. Poi, se gli altri si ricollegheranno in modo più stretto, non lo so, non posso saperlo. Oltretutto, bisogna vedere anche se li faranno gli altri. Doppia copertina, doppia cover, questa qui è la cover variant, la cover, vabbè, la sceneggiatura è di Enoch, i disegni di Buscaglia, la copertina è anche di Alfio Buscaglia, la copertina variant è di Stefan Kopinski. Una lettura che scorre bene un fumetto che non è né estremamente horror, né estremamente supereroistico, fra virgolette, né estremamente diciamo fantasy, urban fantasy, no? Come è il caso di questa società di inizi anni 90, siamo credo, inizio 900, siamo credo negli anni 20 barra 30 del 900 e in cui c'è questo che diventerà il protagonista che dovrà, si ritroverà di fronte un'altra volta a questi demoni di Cthulhu che vogliono invadere la terra e che sono richiamati però da uomini che adorano questi demoni. Il discorso di Cthulhu è decisamente potente, è decisamente orrorifico, è decisamente importante, per cui se non l'avete mai letto non capirete molto partendo da qui. Io vi consiglio di partire da Butanabe che parla appunto proprio dei rifà, appunto proprio i romanzi di Lovecraft e poi ne capirete un po' di più ma anche se leggete qualche cosa veloce Wikipedia su Lovecraft vi rendete conto di che cosa sono. Una storia interessante, una storia che scorre, disegnata bene, fatta bene, un volume che si fa leggere, un volume che si fa leggere, che non spicca purtroppo all'interno di una lettura imprescindibile ma questo più per il marketing che gli hanno fatto che per il resto. Se ne sa poco dell'uscita di questo volume, se ne sa poco se sarà una serie se non sarà una serie non si capisce dove vuole andare a parare perché tutti i volumi hanno una fine che può essere riaperta appunto come nel caso del primo e poi uscito il due ma che volendo si chiude lì. Per cui non è che stimoli tantissimo nella sequenzialità della lettura però se vi piacciono questo tipo di racconti io vi consiglio di dargli un'occhiata. Seconda cosa di cui vi voglio parlare è Nero. Nero è arrivato al quarto numero. In tutto saranno sei in questa prima stagione e probabilmente stanno già scrivendo e disegnando gli altri sei. ogni tre numeri uno dei numeri è disegnato da uno dei creatori di Nero che è Emiliano Mammucari che insieme al fratello Matteo ha studiato questa ha creato questo mondo questa storia particolare in cui appunto c'è un aspettate che ve lo dico copertina variant copertina normale la mappa di dove è ambientato quindi nel Medio Oriente soggetto Emiliano e Matteo Mammucari e Giovanni Masi questa volta sceneggiatura di Emiliano e Matteo Mammucari e i disegni di Emiliano Mammucari alcune tavole sono di Andrea Serio colori di Adela Matera con la collaborazione di Luca Safonti editor Giovanni Masi lettering di Luca corta questa storia ecco c'è riassunto è una cosa molto bella perché al quarto volume il riassunto ci deve stare perché escono uno ogni tre mesi quattro mesi e quindi uno si dimentica queste 60 pagine perché alla fine sono 60 pagine 60 tavole si districa questi personaggi principali il principale è Nero che è un guerriero arabo che vive in in terrenetà un esperienza particolare il padre voleva immolarlo per liberare un demone che avrebbe dovuto essere così potente da uccidere tutti quanti gli infedeli che in quel momento stavano facendo le crociate in terra santa gli infedeli ovviamente erano cristiani dal loro punto di vista a lui si aggiungono tutta una serie di personaggi che vedete che per il momento conosciamo bene e che popolano questo universo a metà tra il fantasi magico e il reale storico che è molto interessante ripeto quarto numero una serie che nella sua prima nella sua prima stagione prevede semplicemente sei volumi dategli una possibilità se non l'avete preso il quarto volume è un volume estremamente estremamente importante ma che si chiude estremamente invilico estremamente troppo invilico per numeri che per il quarto che vedremo fra sei mesi fra tre mesi sebbene ci va un po' troppo invilico questo questo va detto per il resto è un numero disegnato da Emiliano Mammucari quindi è eccezionale i colori di Adele Matera sono bellissimi e Luca Corda riesce a fare un lettering perché non non dimentichiamoci che il lettering è stra importante nella lettura del volume riesce a fare un lettering perfetto assolutamente perfetto e di questo sono molto contento perché tutto questo ripeto aiuta la scorrevolezza della lettura aiuta la cinematograficità se se vodi del racconto che a un certo punto pensi di sentire rumori ti vengono propri rumori per quanto è raccontato bene e disegnato bene passiamo all'ultimo senza anima agguato l'ultimo non perché sarà l'ultimo ma in ordine di pubblicazione senza anima un senza anima in cui Jan è particolare ci ricordiamo che senza anima è il momento in cui Dragonero Jan vive il momento di ribellione prima di entrare negli incursori imperiali quindi prima del numero dello speciale di questo qui di Max Dall'Oglio del Regno dei Lupi prima di questo qua ma successivo ai racconti che stanno andando in tv quindi le Dragonera Adventure o appunto le Dragonera Adventure quelli gli spillatini quindi un periodo in cui è molto giovane e nel pieno periodo della ribellione si unisce ai mercenari senza anima e inizia a girare l'Erundar in quel modo sempre doppia copertina in questo caso la storia è di Luca Enoch uno dei due autori insieme a Stefano Vietti i disegni sono di Manolo Morrone colorazione di Francescutto che colora praticamente tutto il lettering sempre di Luca Corda e di fatti un gran bel lettering anche qui che fa capire tutto perfettamente l'unico problema che ho avuto questa volta è che leggendolo in digitale con un iPad da 11 pollici ho fatto un po' fatica perché le tavole sono fatte per essere stampate più in grande quindi immagino quando questi quali vorranno ristampare in bonellidi saranno un macello però ce lo saremo a ridire veramente un bel numero graficamente storia non imprescindibile bisogna dirlo in questo caso diciamo che la la storia rimane anche parecchio in biligo di solito all'interno di all'interno dei senza anima le storie si chiudono lasciando aperto degli spazi in questo caso invece resta proprio in biligo anche qui è una cosa strana perché di solito i senza anima si possono leggere anche senza troppi problemi in questo caso invece probabilmente il successivo va a letto vanno letti per forza in sequenza questi due non lo so per quale motivo ma ci avviciniamo anche alla metà di quelli che dovevano essere i senza anima e il periodo di pubblicazione degli stessi perché ci avevano detto che sarebbero stati 24 numeri perché i 24 mesi sono stati quelli in cui Ian ha fatto parte della compagnia dei senza anima un volume quindi che non vi consiglio da leggere come primo senza anima se volete leggere un primo senza anima ci sono tanti altri oltretutto stanno ristampando anche i primissimi quindi io vi direi recuperateli in ordine cronologico non c'è tutto sto bisogno ma questo come primo proprio no perché in questo numero Ian ha già sviluppato determinate caratteristiche è già cambiato rispetto proprio ai primissimi quindi quindi vi conviene veramente se li volete se volete capire se è il caso di recuperare questi volumi perché c'è un costo abbastanza importante 11 volumi ha ormai il costo è di aspettate che ve lo dico di 18 euro beh stiamo sui 200 euro quindi il costo è importante il prodotto è ottimo però appunto riniziate all'inizio li stanno ristampando è la cosa migliore in questo caso chi invece sta procedendo e non sa se prenderlo o meno cosa strana dopo che ti rifai tutti è difficile c'è questo dubbio però è una è una bella storia è una bella storia sicuramente molto meglio delle storie delle monografiche perché comunque è una storia a sé è una storia di dei tempi passati è una storia che viene raccontata anche molto bene scorre tranquillamente i personaggi sono sempre raccontati e diventano sempre più tondi sempre più importanti andiamo a capire sempre di più quello che sta succedendo oltretutto in questo momento avendo riacquisito il Carogna che è il comandante dei Senz'Anima anche all'interno della serie regolare svariati decenni dopo è ancora più interessante capire come si è evoluto il suo personaggio è diventato quello che è nella serie regolare in mondo oscuro certo il Carogna ce lo stanno a fa vedere veramente poco e soprattutto una macchietta all'interno di quel tipo di narrazione però non si sa mai che successivamente sviluppino proprio dei numeri dedicati appunto a lui quindi ragazzi Cthulhu 2 Nero 4 Senz'Anima 11 sono la proposta che in questi giorni in questo giugno Bonelli fa in libreria e in fumetteria tre cose molto differenti l'unica che veramente si può leggere a sé stante è Cthulhu 2 ma solo tre generi totalmente diversi perché c'è un fantasy puro c'è un fantasy come quello di Senz'Anima che è comunque legato a Dragonero e che quindi non può essere letto a sé devi comunque conoscere il mondo di Dragonero della serie regolare e c'è invece Cthulhu che è totalmente svincolato da tutto che può essere letto anche isolatamente e che forse casomai in qualche mercatino ritrovate anche il numero 1 e quindi ve li fate tutti e due che è una bella lettura non è l'horror definitivo ma è una bella lettura a metà tra l'urban fantasy l'horror e c'è un po' di supereroistico un po' di magia eccetera detto questo che altro dirvi ditemi anche voi se le avete recuperati se vi sembrano delle qua devo andare riprende Anna che oggi finisce gli esami di terza media e speriamo andate tutto bene e niente noi ci vediamo domani per il solito prossimo video vi aspetto qua sotto nei commenti e siete sempre di meno a commentare perché sono troppo esaustivo devo lasciare cose così ditemi voi perché eh lo so è estate sempre meno tempo io pure c'ho meno tempo di commentare casomai i video li vedo ma va così chi se ne frega l'importante è che state in bene ciao belli ciao